Antonella Di Martile, Assessore al Comune di Loretta Brutino, presentato il calendario delle programmazioni natalizie, che cosa si potrà vedere in questi giorni a Loretta Brutino? Bene, innanzitutto voglio precisare che questo calendario è il frutto di una collaborazione tra l'amministrazione comunale e tutte le associazioni presenti sul territorio. Siamo riusciti finalmente ad avere un calendario ricco di iniziative, ad esempio un concerto nella Chiesa di San Pietro. Ci sarà poi una tenso struttura nella zona Monumento, dove al suo interno ci saranno eventi culturali e anche vari concerti. Ci sarà anche un mercatino di Natale nei giorni 22 e 23 dicembre, si chiuderà poi con una classica Befana del 6 gennaio. Tutto il programma poi è visibile sul sito del Comune di Loretta Brutino. Federico Acconciamessa, comunque le manifestazioni a Loretta Brutino erano già iniziate nei giorni scorsi con Winter is Coming. Sì, abbiamo promosso questa sperimentale, la chiamo io ora, segna culturale invernale, perché appunto abbiamo promosso nei mesi di ottobre e novembre. La risposta del pubblico è stata più che positiva e quindi forti anche di questo risultato abbiamo promosso questo calendario natalizio a cui invito tutti a partecipare perché è veramente interessante e ricco. Loretto che sta puntando molto sulla cultura. Sì, puntiamo molto perché soprattutto sulla cultura locale, di scrittori e artisti locali, quindi sicuramente da gennaio ripartiremo per calendarizzare un intero anno di manifestazioni culturali, sociali, sportive e non solo. Grazie. Grazie.